Il Molise torna da questa mattina in fascia arancione, in zona rossa con maggiori restrizioni solo Termoli, Agnone, Torre e Gielsi per gli alti casi di contagi. Terza settimana di vaccinazioni nell'impianto sportivo dell'Università a Campobasso per il personale scolastico, organizzazione efficiente e somministrazione in crescita. Incastrato ad un controllo di una pattuglia della finanza, finisce in manette un giovane corriere di droga, aveva occultato nella sua auto circa 200 grammi di eroina. La capolista della Serie di Campobasso è fermata sul pari a Piedimonte e Matese, finisce in parità 1-1 anche il derby tra Vasto Girardi e Olimpia Agnonese. Buon inizio di settimana ai nostri telespettatori. Un giovane di 34 anni ha perso la vita per complicanze da coronavirus. Si tratta di Daniele Gallo, originario di Gamba Tesa, una seconda persona, una donna di 54 anni, malata gravemente ai polmoni, è stata strappata alla vita nelle ultime ore. La signora è deceduta all'ospedale veneziale di Isernia per causa di una fibrosi polmonare, ma vediamo assieme il riepilogo dei dati del Covid-185. I tamponi nelle ultime ore, 18 nuovi positivi, 5 decessi, un ricoverato, i guariti, sono in totale 55. E nuovamente in zona arancione da questa mattina il Molise, tranne che per quattro centri Termoli, Ielsi, Torro e Agnone, che resteranno ancora altri giorni in zona rossa, l'ordinanza è stata firmata dal governatore Donato Toma. Per quanto riguarda invece le dosi di vaccini e antivirusi inoculate alla popolazione, i numeri hanno superato oggi le 46.000 somministrazioni complessive. I dati dell'azienda sanitaria regionale indicano in Termoli il centro molisano con il maggior numero di contagi, 147, ma in discesa rispetto ai giorni precedenti, quanti positivi erano saliti a 202. In calo i malati pure a Disernia, oggi sono positivi 121. La settimana scorsa erano 133. Tra i paesi più colpiti rimangono anche Campomarino e Venafro. Ed è iniziata oggi la terza settimana di vaccinazioni al Pala Unimol di Viale Manzoni a Campobasso per il personale scolastico della regione. Si andrà avanti fino a fine mese con il vaccino AstraZeneca. Dottore, oggi è lunedì, c'è la ripresa al palazzetto dell'Ateneo del Molise delle vaccinazioni. Che numeri ci sono stati nelle settimane precedenti? Siamo arrivati a vaccinare oltre 500 persone al giorno. Si è partito i primi giorni con 200-250, si è andati sempre più crescendo e penso che supereremo sicuramente le 600 persone da vaccinare in una giornata. Quali sono, quanti sono i docenti, il personale amministrativo, i collaboratori da essere vaccinati in Molise? Secondo i dati che ci ha fornito la regione dovrebbero essere intorno ai 6.000. Quindi pensiamo di poter riuscire a vaccinare tutti quanti dai calcoli fatti finora. Fino alla fine del mese il Pala Unimol, secondo le indicazioni del rettore con gli accordi che ha preso con l'ASM e la regione, dovrebbe essere in funzione. Per il personale docente c'è solo la struttura del Pala Unimol o ad I Serni e a Termoli si sono create altre strutture per le somministrazioni? Credo che sia soltanto il Pala Unimol perché stanno venendo qui docenti anche dai Serni e a Termoli, quindi credo che sia l'unica struttura che ha fatto questa convenzione con il sistema scolastico. Sempre per il personale scolastico, la cassa farmaceutica per le somministrazioni è l'AstraZeneca. Possiamo rassicurare tutto il personale scolastico? Non ci sono assolutamente problemi? Assicurazione totale. L'AstraZeneca è un vaccino sicuro, come è stato confermato anche dalle autorità regolatrici sia europee che italiane. Si sono verificati dei casi di effetti avversi anche gravi ma non è ancora stabilito se siano in stretta relazione e comunque i numeri sono talmente bassi rispetto al personale che è stato vaccinato che il rischio di avere questi eventi avversi è molto molto inferiore rispetto al rischio di contrarre il Covid e peraltro sono eventi avversi che si possono avere con qualunque tipo di farmaco, anche con quelli più banali come la tachipirina o l'aspirina. Dottore, lei da esperto consiglierebbe sempre in ogni caso la vaccinazione nei casi di pandemia, di epidemia come quello che stiamo vivendo da oltre un anno a questa parte? Certo, è l'unica arma che abbiamo a disposizione contro i virus, non esistono altre. Non è il vaccino che sconfigge il virus, è la vaccinazione che sconfigge il virus. Noi abbiamo eliminato delle malattie che hanno provocato milioni e milioni di morti nel corso dei secoli a partire dal vaiolo, per parlare poi della poliomelite o di tante altre malattie come il morbillo che ha abbattuto enormemente la mortalità nei bambini. Quindi la vaccinazione è l'unica terapia a disposizione. Nell'ultima settimana più pazienti guariti, 59 che contagiati dal coronavirus, 29 nella città di Campobasso, ma la pressione sull'ospedale Cardarelli non va sottostimata. Una pressione che i cittadini hanno il dovere di aiutare a far scemare il più possibile il sindaco Roberto Gravina. Inoltre ha ribadito la necessità di provvedere alla vaccinazione degli agenti della Polizia Municipale. La dottoressa Scafarto, responsabile dell'azienda sanitaria, si è impegnata perché si possa prevedere in tempi rapidi la calendarizzazione delle vaccinazioni per gli agenti della Polizia Locale. Si è conclusa a Termoli la prima fase dei tamponi epidemiologici, gratuito, voluti dall'amministrazione comunale a Palazzo Sant'Antonio per verificare l'incidenza del virus. Uno solo dei 395 tamponi rapidi eseguiti è risultato positivo. In totale sono stati processati 2.940 tamponi con un riscontro di 15 positività. A breve saranno aperte le adesioni alla seconda fase dello screening. E cambiamo argomento. Adesso passiamo alla cronaca. Giovane corriere di droga fermato ed arrestato da una pattuglia dei finanzieri. L'uomo incensurato aveva con sé circa 200 grammi di eroina pronta per essere venduta. Andiamo a vedere il contributo. Gli uomini della Guardia di Finanza del Capoluogo hanno arrestato un insospettabile giovane impiegato per detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti. 200 grammi di eroina che nascondeva nel vano motore della sua auto fermato ad un controllo dei militari. Proprio nei momenti di verifica da parte della pattuglia in una strada interna al confine tra la provincia di Foggia e quella di Campobasso, il giovane, 25 anni ed incensurato, denotava insofferenza, destando i sospetti degli agenti. Lo stupefacente sequestrato ha un valore stimato sul mercato di oltre 5.000 euro. E' solo questa l'ultima operazione portata a segno dai baschi verdi sulle strade della regione, attività tesa a bloccare il settimanale trasporto e vendita illegale di droga sulle piazze di spaccio dei principali centri del Molise e il sequestro dei proventi illeciti da parte di corrieri e organizzazioni criminali. Colloquio di manifestanti guidato da Emilio Izzo questa mattina di Sernia con il vice prefetto Scioli sul pagamento illegale dei parcheggi auto nel centro cittadino del capoluogo di provincia. Un altro argomento dell'incontro è stato quello del divieto di una manifestazione politica pubblica richiesta nei giorni addietro. Dinanzi la sede del neoassessore regionale Mena Calenda protesta che si farà in ogni caso lunedì 29 alle ore 10. mercoledì mattina invece i comitati e associazioni torneranno ad incalzare la classe politica regionale in via 4 novembre a Campobasso. Si sono giustificate dinanzi ai carabinieri della stazione di Carpinone di essere giunte in provincia di Sernia per esercitare l'attività di prostituzione provenienti da una regione limitrofa. Le due donne sono state multate di 800 euro ciascuna per essere giunte in auto nel Molise senza validi motivazioni e documentazioni e fatte rientrare nei paesi di residenza. Lo stabilimento industriale Unilever a Pozzilli ha confermato l'intenzione di mantenere l'occupazione all'interno dello stabilimento in provincia di Sernia. Il piano industriale presentato dall'azienda che prevede una partnership al 50% con la Seriplast prevede la riconversione del sito puntando sulla trasformazione di materie plastiche post-consumo. Il percorso di riconversione sarà seguito da Invitalia, durerà tra un anno e mezzo e due anni e prevede il mantenimento dei livelli occupazionali e la tutela dell'indotto, ha rimarcato il parlamentare molisano Antonio Federico. Cambiamo ancora argomento. La Confcommercio interviene sui contenuti del decreto sostegni e mette in evidenza come bisognerebbe rafforzare gli stanziamenti per i ristori e far riaprire le attività economiche in sicurezza. Occorre rafforzare decisamente le risorse dedicate ai ristori che verranno riconosciuti ad imprese e partite IVA a fronte delle perdite di fatturato medio-mensile registrato nel 2020 rispetto al 2019. Queste le parole con le quali esordisce in una nota la Confcommercio Molise, che entra decisamente in merito, sottolineando come il provvedimento assunto dal Consiglio dei Ministri, stanzia infatti per tali interventi circa 11 miliardi sui 32 complessivi mobilitati dal decreto. Ma la platea degli interessati è nell'ordine dei 3 milioni di soggetti e le imprese si trovano a fronteggiare l'impatto di una picchiata della spesa per consumi nel 2020 prossima ai 130 miliardi di euro. Servono ristori più adeguati in termini di risorse, più inclusivi in termini di parametri d'accesso, più tempestivi in termini di meccanismi operativi. Da questo concetto deriva il commento della direttrice della Confcommercio Molise Irene Tartaglia, che scrive che a conti fatti il decreto sostegni conferma la mancanza di risorse economiche necessarie per poter indenizzare completamente gli imprenditori per la perdita economica che hanno subito e che purtroppo continuano a subire a causa della pandemia. Afferma ancora che le uniche soluzioni sono quelle che dovrebbero portare alla riapertura immediata delle attività economiche che hanno dimostrato che si può continuare a lavorare in sicurezza, a fronte anche di una decisiva accelerazione della campagna vaccinale sull'intero territorio nazionale. Passiamo un attimo alla politica. Ho firmato la mozione di sfiducia perché parte dell'attuale maggioranza di centrodestra alla regione Molise non ha interesse a rendere l'ospedale Vietri di Larino centro Covid e anche perché non garantisce le cure sanitarie ai cittadini e quanto dichiarato da Aida Romagnuolo, esponente di Fratelli d'Italia a Palazzo d'Aimmo, l'apertura del centro Covid nel nostro comio frentano si dende necessario per gli oltre 400 decessi e le migliaia di contagiati, ha concluso la Romagnuolo. Il sindacato USB promuove un nuovo presidio del personale della sanità dopo domani pomeriggio dinanzi alla sede del Consiglio regionale del Molise a Campobasso al fine di risolvere la questione lavorativa che riguarda gli infermieri e gli operatori socio-assistenziali contrattualizzati con partita IVA fino al 31 marzo. Nella città di Campobasso i dati della qualità delle risorse idriche parlano di un'acqua buona oligominerale o leggermente mineralizzata. Andiamo a vedere. Come di consueto, in occasione del World Water Day è stato pubblicato il rapporto annuale sulla qualità dell'acqua della rete pubblica di Campobasso. Accade ogni anno e come si evince dalla tabella di sintesi elaborata da Idrosfera e pubblicata sul sito del Comune, offre la possibilità a tutti i cittadini di verificare e valutare i risultati dei costanti monitoraggi dell'acqua pubblica, confermandone l'assoluta qualità e le ricche proprietà. Anche nel rapporto di quest'anno l'acqua è risultata assolutamente adatta all'uso potabile quotidiano, classificandosi nella categoria oligominerale o leggermente mineralizzata. Nel corso del 2020 sono stati effettuati ben 144 campioni con relative analisi di laboratorio e 96 controlli ispettivi dei manufatti dell'acquedotto con esiti sempre perfettamente in linea con gli standard fissati dalle normative. Tutto questo a garanzia delle persone che usano quotidianamente l'acqua sia per berla che per fini comunque alimentari. Dal comune di Campobasso si sottolinea che nel rapporto una grande attenzione è stata dedicata anche alla trasparenza e all'accessibilità dei dati, in particolare grazie a una nuova mappa interattiva dalla quale sono facilmente individuabili le sorgenti di approvvigionamento delle diverse zone della città. In tal modo ogni cittadino potrà accedere a tutte le informazioni relative all'acqua del proprio rubinetto di casa. Il pastificio La Molisana ha donato mezza tonnellata di pasta a Casa Santa Marta, organizzazione del Vaticano che si occupa dei bambini in stato di bisogno e delle loro famiglie per il pastificio del capoluogo un'altra occasione per tendere una mano alle persone in difficoltà. Francesco Conforti, neopresidente dell'Associazione Nazionale Stelle al Merito Sportivo, ha commentato in futuro faremo altre iniziative benefiche grazie alla disponibilità dei dirigenti della Molisana, un'azienda che per noi è ben più di un partner. Organizzato dall'Associazione Nazionale Città del Tartufo, dopo domani alle 17.30 si terrà gratuitamente online un incontro per scoprire l'analisi sensoriale del tartufo nero e uno degli eventi in attesa della decisione sulla candidatura Unesco. Un appuntamento che unisce circa 50 località del tartufo in Italia, un'occasione per approfondire la conoscenza del tartufo pregiato come quello di San Pietro Avellana. Sarà un confronto coordinato da Isabella Gianicolo del Centro Studi Tartufo di Alba che guiderà gli esperti di comunicazione enogastronomica all'approccio sensoriale. Siamo adesso, come ogni giorno, alle previsioni del tempo. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, specialisti delle batterie e degli accumulatori e inviale Olanda nella zona industriale di San Salmo. Tempo incerto e nubi sparse nella giornata odierna, possibili fenomeni temporaleschi, misti a neve nel corso della giornata. Le temperature sono comprese tra la minima di un grado a campo basso e la massima di 12 gradi a termoli. Dalla sera, le moline nevicate sull'Alto Molise è coperto sul resto della regione. Domattina ancora maltempo e temperature in discesa. Molto mosso il mare Adriatico, venti da moderati a forti dei quadranti settentrionali. Per lo sport iniziamo dalla pallacanestro femminile di A1. Il basket schio si impone sul sesto San Giovanni e vola in testa alla classifica in attesa dell'Umana Venezia che scenderà in campo oggi pomeriggio. Andiamo a vedere i risultati. Ventitresima giornata del campionato di Serie A1 di pallacanestro femminile. Bologna-Broni 93, 66-46, Costa-Masnaga-Racusa 71-83, Empoli-Sassari 79-70, Lemura-Lucca-Battipaia 74-66, San Martino di Lupari-Magnoli a Campobasso 53-49, Sesto-San Giovanni-Baschetschio 54-72, Venezia-Vigarano rinviata oggi. La classifica Baschetschio 42 punti, Umana-Venezia 40, Ragusa 36, Bologna 34, Sesto-San Giovanni-Empoli 28 punti, San Martino di Lupari 24, Costa-Masnaga 22, Magnoli a Campobasso 18 punti, Lemura-Lucca 14, Broni 93-12, Dinamo-Sassari 8, Battipaia 6, chiude Vigarano a quota 2 punti. Sconfitta di misura per la Magnoli a Campobasso, che sul terreno di gioco del San Martino di Lupari, domina per buona parte della contesa, ma alla fine a spuntarla sono le padrone di casa. La Magnoli a Campobasso cade di misura nella sfida esterna contro le ragazze del San Martino di Lupari. Una gara che, seppur condotta con il vento in poppa per oltre 38 minuti, non regala la gioia della vittoria a coach Sabatelli. Eppure, le Magnolie cominciano con il piede giusto. La difesa manda in blackout l'attacco veneto, mentre sul fronte offensivo, Bonasia prima e il trio Vojta-Ostarello-Tikvic poi dimostrano che le geometrie tattiche messe a regime durante gli allenamenti riescono a dare buon frutto. La testimonianza è il fulminio raddoppio sulle avversarie ed il successivo allungo a firma Gorini, che chiude il primo quarto mettendo tre possessi di margine tra le Campobassane e le padroni di casa. Successivamente, è Tikvic che consente alle molisane di arrivare oltre i 10 punti di vantaggio, con il San Martino di Lupari che non riesce a trovare la quadra costretta a subire il gioco delle opponenti fino all'intervallo lungo. Nel terzo quarto, però, le Campobassane sono altalenanti. Dopo una prima carica delle venete, le nostrane si stringono intorno a Bonasia e riescono a tenere botta salendo fino ad un più 14. Ma è proprio in questo frangente che il San Martino di Lupari riesce a mettere a segno un parziale di 8 a 0 che mette in discussione i piani delle molisane. Ed in effetti, i peggiori incubi delle fiori d'acciaio si concretizzano proprio nell'ultimo periodo, andando a pagare il conto non solo da un punto di vista fisico, ma anche psicologico. Bonasia prova a lanciare le sue verso la vittoria finale, supportata anche dalla compagna Ostarello, ma ad andare in blackout questa volta è l'attacco rosso-blu con le venete che dilagano. A cronometro fermo, il risultato è San Martino di Lupari 53, Magnoia Campobasso 49. Lasciamo la palla a canestro, passiamo al calcio di Serie D, ventiduesima giornata, partita a porte inviolate per il Campobasso in trasferta a Piedimonte Matese, pareggio anche nel derby tra Vasto Girardi e Agnonesi, andiamo a vedere risultati e classifica. 22esima giornata del campionato di calcio di Serie D Girone F, Castelnuovo-Vomano-Castelfidardo 2-3, Cinzia Albalonga-Giulianova 1-1, Matese-Campobasso 0-0, Recanatese-Pinetto 2-2, Vasto Girardi-Olimpia-Agnonese 1-1, il resto delle partite rinviate. La classifica, Campobasso 47 punti, San Nicolò-Notaresco 42, Castelnuovo-Vomano 40, Cinzia Albalonga 36 punti, Vasto Girardi 35, Castelfidardo 32, Matese 30, Vastese e Recanatese 27 punti, Tolentino, Aprilia e Rieti 26, Montegiorgio 25, Atletico Fiuggi 20, Pineto e Real Giulianova 18 punti, Olimpia-Agnonese 4, chiude il porto Sant'Elpidio a quota 3 punti. La sfida tra la capolista Campobasso e il Matese si risolve con un pareggio che lascia la mare in bocca agli uomini di Cudini, anche se nel finale i Campani sprecano l'occasione per passare in vantaggio. Vediamo il contributo. Secondo pareggio consecutivo fuori casa dopo quello di Montegiorgio per il Campobasso che sul campo del Matese non riesce a trovare la rete in una partita disputata al di sotto delle aspettative. Per la ventiduesima gara del Girone F della serie di Mister Cudini deve fare a meno di Brenci e Fabriani, mentre in campo si vede dal primo minuto il giovane Angelo Mancini al posto di Lado e di Domenico Antonio in attacco. I primi dieci minuti della gara scorrono senza particolari emozioni fino a quando una bella triangolazione a firma Mancini, Candellori e Sposito porta proprio il numero dieci a concludere di poco alto sopra la traversa. E questa è la vera ed unica emozione dei primi regolamentari 45 minuti di gioco dopodiché la partita sembra andare in stand-by. Nella ripresa l'occasione più interessante ancora una volta in favore dei Lupi. Quando siamo al 53esimo il giovane Mancini serve un pallone di pregio in favore di Cogliati che incredibilmente a tu per tu con l'estremo difensore di casa sbaglia la mira e calcia alto. Quasi un quarto d'ora dopo sono i campani a provare ad impensierire. Masi vede Raccichini fuori dai pali e prova la conclusione da lontano. Bravo però il portiere rosso-blu a non farsi sorprendere. Quattro giri di lancetta più tardi un cross di Van Zan con il vento in poppa per poco non beffa Palombo che riesce a toccare accompagnando il pallone sulla traversa. Dopo un quarto d'ora è il nuovo entrato Vitali a mettere pressione sulla fascia destra riuscendo a servire con un buon pallone esposito che tuttavia non riesce ad imprimere la giusta potenza al tiro. Quando siamo ormai al novantesimo è però Masotta a fare un vero e proprio regalo a Mr. Cudini tutto solo davanti a Raccichini infatti pecca di altruismo e preferisce servire un compagno che però non riesce a raggiungere in tempo la sfera. Dopo l'occasionissima c'è giusto il tempo per un disperato arrembaggio da parte di rosso-blu che le provano davvero tutte pur di sbloccare una partita sonnacchiosa. Ma non c'è più tempo il triplice fischio dell'arbitro manda tutti sotto la doccia e consegna un pari che per il campo basso sa di amarezza. Il derby tra Vasto Girardi e Agnone si conclude con un pareggio grazie a un gol per tempo protagoniste della partita le reti del Granata Abercon e del giallazzurro Mercai. Primo tempo saldamente in possesso dell'Olimpia agnonese ripresa arrembaggio Vasto Girardi finisce uno a uno il derby dell'altissimo Molise con recriminazioni da una parte e dall'altra. Partita da Tripra nel freddo dello stadio di Tella 31 punti di differenza tra le due squadre prima del match ma gli ospiti in completo bianco si sono dimostrati all'altezza delle ultime incoraggianti prestazioni. Il tridente argentino d'attacco ospite Sousa Abercon a Maia mette subito timore alla retroguardia avversaria priva di Paciardi. Il centravanti Abercon si crea una prima occasione al quinto minuto dinanzi a Guerra poi lo infila con un avvitamento di testa su assist di Da Costa 60 secondi dopo. Rotti gli indugi la formazione di Antonio Di Rosa continua a costruire trame su trame. I locali si vedono la prima volta al ventesimo con una girata di Mancino di Salatino. L'Olimpia avrebbe l'opportunità di trafiggere ancora ma dopo un batti e ribatti in area Tankulic non è decisivo alla mezz'ora. Il vasto Girardi anche per il vento contro non ha la determinazione delle giornate migliori. Finale di tempo Abercon per i Granata da una parte Mercai al volo ma fuori misura dall'altra. Primo tempo con il portiere ospite Caputo inoperoso e Agnonese che rientra negli spogliatoi meritatamente in vantaggio. Cambia la musica nei secondi 45 minuti pur senza mele in cabina di regia è più convincente il vasto Girardi ma la prima vera occasione ancora sulla testa di Abercon guerra si ritrova il cuoio tra le braccia attorno al quarto d'ora Guida si libera il tiro ma guadagna solo un angolo alla fine ne saranno ben nove per la formazione di Fabio Prosperi Salatino Guida bussano di nuovo dalle parti di Caputo al ventesimo poi Capitan Ruggeri si spinge spesso a dar manforte alla prima linea alto da azione da corner con l'ingresso di la macchia per Amaia l'agnonese passa 5 in difesa la panchina del vasto Girardi risponde con l'ex Maniscalchi e Fioretti per aumentare le bocche da fuoco quando già gli ospiti pregustavano il primo successo della stagione Guida si carica i suoi sulle spalle stretto in area si guadagna la massima punizione tra le proteste degli avversari il fischietto Gambuzzi di Reggio Emilia non ha esitazione ed indica il calcio di rigore che viene trasformato in modo chirurgico da Mercai salito a quota 13 timbri in stagione al terzo dei quattro minuti di recupero sbanda pericolosamente l'Olimpia Mercai lasciato copevolmente solo in area piccola coglie il legno a porta sguarnita è l'ultima emozione di una partita che le due contendenti hanno disputato per vincere i locali frenano al secondo pareggio interno consecutivo Granata in palla e molto vicini all'impresa esterna ancora a calcio di serie D il Castelfidardo passa sul terreno del Castelnuovo Vomano terza forza del raggruppamento F andiamo a vedere le azioni salienti del match tornano a calcare i campi di serie D Castelnuovo e Castelfidardo dopo la meritata sosta gli 11 punti di distacco dai neroverdi infatti non devono ingannare con i marchigiani sempre ben messi in campo da mister Lauro la cronaca si apre al settimo Marchionni di Bari vede un fallo in area su Fagioli ma dopo la segnalazione del secondo assistente Colaianni annulla la massima punizione la seguente punizione di Loviso termina alta 26esimo corner pericoloso di Loviso con vari rimpalli che alla fine aiutano David che può bloccare a terra un minuto dopo la mezz'ora si sblocca il match Affarlo e Fagioli sgroppata di Manari a sinistra sterzata e cross David sbanaccia e Fagioli è il più lesto a rubare il tempo a tutti 1-0 60 secondi prima del doppio fischio buona giocata di Emili ma il suo mancino trova David pronto si va a riposo sull'1-0 più che meritato Castelfidardo spesso attento in fase difensiva ma che nulla ha potuto sulla zampata di Fagioli poco però in fase offensiva con il Castelnuovo che ha chiuso bene tutti gli spazi nella ripresa subito due emozioni la prima per i Neroverdi quando Manari vede Emili sul secondo palo il 10 non arriva per questione di centimetri al sesto gli ospiti sfondano a sinistra con Mataloni che scarica per Giampaolo il tiro masticato va sul fondo nono minuto Fagioli lotta e vince pallone rubato sulla tre quarti da parte del nove che appena in area salta David quest'ultimo può solo stendere il centravanti Neroverde poi per lo viso dal dischetto è una formalità ma col Castelfidardo mai stare sereni Giampaolo riapre la gara attorno al quarto d'ora col 10 Biancoverde che dal limite trova un destro chirurgico che fredda Olivieri gara che si riapre proprio nel momento in cui sembrava chiusa Fagioli continua a creare pericore agli avversari e attorno al ventesimo un suo colpo di testa costringe agli straordinari David che manda in angolo ventottesimo stavolta Emili arriva in tempo sul pallone di Manari ma in spaccata non trova lo specchio mandando alto nemmeno due minuti e tocca ad Olivieri lo straordinario il tiro di Fermani è insidioso ma l'estremo Neroverde c'è al trentottesimo Olivieri però non può nulla straordinario Giampaolo in area che salta lo viso appoggia Braconi che apre i rubinetti per una doccia gelata ai danni del Castelnuovo due a due non succede più nulla fino al cinquantesimo quando accade l'impensabile per Papai si ritrova il pallone sui piedi e segna il gol vittoria per un Castelfidardo Maidomo Chiudiamo l'Atletic arrivano due medaglie per il Molise ai campionati italiani Indoor Master di Ancona conquistarle entrambe Morena di Benedetto della Naisernia la portacolori della società presieduta da Agostino Caputo ha portato a casa gli 800 metri nella categoria Over 40 la stessa di Benedetto nella giornata di sabato è stata protagonista anche nei 1500 metri chiudendo con al collo la medaglia d'argento e con l'Atletica Leggera è veramente tutto grazie per essere rimasti con noi a questa sera arrivederci grazie per la visione